ciao sono stefano e spesso mi capita di prendere decisioni diversamente giuste infatti poco tempo fa ho deciso di vrappare da solo la mia macchina ed è stata un'esperienza che non ripeterai per nulla al mondo ma ci tengo comunque a raccontarvela e mi raccomando restate fino alla fine perché vi dirò esattamente quanto mi è costato e farò anche vedere le magagne che di solito non si vedono in video ma cominciamo dal principio perché volevo vrappare la mia auto principalmente perché i paraurti avevano e hanno tuttora dei problemi estetici sostanzialmente hanno un bianco leggermente diverso dal resto della macchina e mi dava molto fastidio il preventivo del carrozziere era di circa 600 euro il che ci stava perché avrebbero rifatto anche il cofano che aveva preso qualche sassata tuttavia a me non piace particolarmente il bianco di questa macchina è un bianco ghiaccio e spesso sembra quasi sporco soprattutto quando la parcheggiate da parte a una ford che non so per quale motivo ma hanno un bianco fotonico fanno luce con le macchine lì a questo punto il preventivo del carrozziere per riverniciare l'intera auto si alza a 2500 euro il che capite che no per niente non si può e lì mi pervade l'idea del wrapping dovete sapere che io guardo spesso video dove wrappano selvaggiamente ogni tipo di macchina ck wraps evosound wraplab e anche molti altri nei loro video sembra quasi facile con risultati super soddisfacenti macchine fighissime e pure la musichetta trap di sottofondo allora faccio due calcoli tra me e me e mi dico farla wrappare costa quanto farla riverniciare quindi me lo devo fare da solo e dopo tutto sono bravo a mettere la pellicola per il telefono quindi perché no e lì comincia la mia ricerca di tutto il necessario ovvero pistola termica e che è un grosso font che fa tanto caldo 39 euro e 99 su amazon magari vi lascio anche il link in descrizione poi il kit del perfetto apprendista wrappatore con guantini mille spatoline knifeless tape cutter e chi più ne ha più ne metta anche lì 22 euro e 99 sempre su amazon e per finire la pellicola che non so se lo sapete ma costa relativamente un botto scartato amazon per il prezzo e scartato ebay perché non volevo pellicole dalla provenienza sconosciuta vado alla ricerca nel web e trovo un negozietto a duo ricerca da casa mia che vende sia 3m che oracle vende anche altri marchi ma io non li avevo mai sentiti e non mi fidavo ora piccolo momento spiegone dovete sapere che ogni produttore ha delle caratteristiche particolari nello specifico oracle ha un costo medio un sistema antibolle e un altissima resistenza al calore ma è difficilmente riposizionabile il che significa che appena tocca la superficie si attacca e per riposizionarla la dovete staccare con forza 3m invece ha un costo alto un sistema antibolle come oracle meno resistenza al calore quindi è più facile squagliarla se non siete prudenti ma è riposizionabile fino a che non viene premuta contro la superficie con la spatolina non fa molta presa che forse la rende un po più facile da utilizzare per i primi esperimenti però alla fine della fiera dopo aver calcolato l'area che mi serviva misurando i vari pezzi della mia macchina e aggiungendo un 15 per cento di sicurezza ho capito che per i 12 metri lineari che mi servivano avrei speso 473 euro con oracle e 765 euro con 3m poi in quel periodo oracle è pure andata in fortissimo sconto a 327 euro e non ci ho pensato due volte anche perché ero abbastanza sicuro che avrei fatto un disastro quindi una volta arrivato a casa strullone lungo 12 metri e largo 1,52 mi sono messo ad aspettare sì perché faceva troppo freddo era ancora primavera e c'erano 10 15 gradi dovete sapere che per il wrapping servono 20 25 gradi allora nell'attesa ho guardato qualsiasi tutorial possibile immaginabile dopo qualche settimana però il cielo si è aperto la temperatura è diventata quella giusta e ho cominciato la mia opera dopo circa tre pomeriggi passati a pulire con la clay bar la mia brera ero pronta a cominciare ora non ho documentato con dei video il processo del wrapping in primo luogo perché pensavo che avrei fatto un disastro in secondo luogo perché lo spazio era poco in terzo luogo perché il mio garage abbastanza bruttino non è particolarmente bello però almeno ho filmato il mio primo pezzo ho deciso di partire da solo con il cofano a meno che non siete bravissimi il cofano solitamente si fa in due quindi poco dopo ho assoldato mio padre che tenesse teso il vinile mentre io lo stendevo grazie papà per l'aiuto e tra vari morsi di zanzara qualche taglio tanta sofferenza e anche una piccola ustione dopo 16 pomeriggi sono arrivato a questo risultato ho reso bianca la mia macchina bianca ma adesso vediamo insieme le varie magagne così posso dirvi cosa ho imparato da questa esperienza traumatica no formativa formativa può sembrare un'idiozia frappare di bianco una macchina bianca ma l'ho fatto perché nel caso di errori si sarebbe visto poco l'interno porta non mi avrebbe dato troppo fastidio e soprattutto il bianco non si può sbiadire se lo tirate troppo cosa che invece fanno gli altri colori qua non ho imparato bene a fare risvolti infatti per quanto io mi sia applicato in questo punto ha lasciato comunque delle grinze col paraurti ho voluto fare il fenomeno tutti dicevano che bisognava fare degli intagli per poterlo fare come si deve ma io ero convinto che facendolo con abbastanza calma e mettendoci tutta la cura necessaria sarei riuscito a farlo in un pezzo solo non ci sono riuscito e qui potete vedere appunto che il wrap si è ritirato ho dovuto fare delle giunture abbastanza brutte in realtà qui all'inizio la devo ancora fare non ho ancora avuto tempo in certi punti invece perché l'ho tirato troppo il materiale è troppo teso e ha fatto una sorta di bollicina sulla piega sono cose abbastanza risolvibili con un po di tempo e la pistola caldo questa non è una magagna però se dovete decidere da dove cominciare cominciate con il parafango è sicuramente la parte più facile da fare alla fine il segreto del wrap è riuscire a tirare la pellicola abbastanza che lei si posizioni da sola sulla superficie dopodiché voi dovrete solamente farla prendere con la spatolina sono molto fiero di questo dettaglio sono riuscito a ritagliarlo quasi perfettamente molto bravo stefano molto bravo lo specchietto invece è stata una tortura spero per voi che i vostri abbiano solamente la calotta colorata i miei invece sono da fare completamente io ho dovuto farli in tre pezzi con un sacco di pezze di qua e di là quindi abbastanza brutto anche se il risultato finale è accettabile qui c'è una magagna che non si vede sostanzialmente quando tirate il vinile e poi lo riapplicate con una tensione diversa si formerà una bellissima linea di colla più tirata o meno tirata che si andrà a vedere soprattutto di sera con delle luci che ci riflettono sopra qua invece nella zona del baule potevo fare decisamente meglio queste rifiniture cosa che ho fatto dall'altro lato ma qui diciamo che sono stato un po troppo corto con il materiale mi raccomando abbondate sempre nella zona posteriore ci sono dei problemi con gli angolini diciamo che nei video sembrava molto più facile quindi la rientranza della targa altro problema sempre pensando di fare il fenomeno ho fatto tutto in un pezzo e non ci sono riuscito ho dovuto fare delle toppe ma sono venute male quindi penso proprio che dovrò rifarle questa invece non è colpa mia ma penso che sia una caratteristica di questo tipo di pellicola e anche della macchina sostanzialmente avendo lo scarico che esce fuori dritto i turbini aerodinamici fanno sì che un po di particolato si depositi sulla parte posteriore e quando piove diciamo che viene parzialmente assorbito dal materiale ora qua l'ho lavata semplicemente ed è arrestato ma se l'ho pulito con lo chantecler vi assicuro che viene pulitissimo lo so non si utilizza lo chantecler sulle macchine però in questo caso basta farlo nella zona interessata e poi sciacquarla bene infine visto che non volevo smontare del tutto gli specchietti ho deciso di brapparci attorno e quindi ho dovuto fare questa sovrapposizione che è uscita tremenda mi dispiace non me ne vogliono i brapper professionisti ah e sì qui potete vedere che non sono stato tanto bravo negli angolini però sono stato bravo a passare sotto le guarnizioni io ho fatto proprio un bel lavoro ultima magagna la maniglia del lato del guidatore l'ho fatta di fretta e furia perché non vedevo l'ora di finire dopo 16 giorni e niente un giorno prima o poi la rifarò come si deve quindi alla fine della fiera la mia macchina è così ho speso 390 euro mi sono un po devastato le mani ed è rimasta ferma in garage per 16 giorni per fortuna potevo utilizzare un'altra macchina per spostarmi ne è valsa la pena sì anche solo per la soddisfazione di averlo fatto sono quelle cose che al momento non te ne rendi conto ma ripensarci un po ti sei divertito a farle e la cosa più assurda è che alla luce di tutto ciò i 2-3 mila euro che chiede un brapper professionista per fare il lavoro come dio comanda non come l'ho fatto io mi sembrano molto onesti e penso che sia molto più facile guadagnare quei soldi o comunque mettere da parte e poi portargliela un giorno che vorrò rifare un brapper diverso e voi cosa ne pensate fatemelo sappiare nei commenti e mi raccomando iscrivetevi e lasciate un bel like ci vediamo alla prossima ciao